Con il Volkswagen California il viaggio inizia sempre al meglio, a prescindere dalla destinazione. In passato affettuosamente chiamato Bulli, il pulmino Volkswagen è da oltre 65 anni il veicolo per i viaggi e il tempo libero in assoluto più amato. Non a caso, visto che il California le permette di portarsi un pezzo della sua casa ovunque lei vada. Può scegliere tra le varianti d'equipaggiamento Beach, Coast e Ocean. Il modello base, il California Beach con fino a sette posti a sedere, è il veicolo perfetto per tutti i giorni. I nuovissimi motori dai bassi consumi le consentono di godersi a pieno il viaggio. A benzina o diesel sono tutti estremamente economici. La tecnologia Blue Motion di serie sul California contribuisce in modo fondamentale a ridurre il consumo di carburante e a contenere le emissioni inquinanti. Essa comprende il sistema Start-Stop per lo spegnimento automatico del motore al semaforo, il recupero dell'energia di frenata per ricaricare la batteria del veicolo durante la marcia, unitamente ai pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per ridurre il consumo di carburante. Il cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti opzionale passa automaticamente da una marcia all'altra senza che nessuno si accorga della benché minima interruzione della coppia, a tutto vantaggio di un elevato comfort di marcia. In combinazione con la trazione integrale permanente 4Motion, anch'essa opzionale, non dovrà mai preoccuparsi del fondo stradale, arriverà quasi ovunque, anche nei posti più impervi. Una volta giunto a destinazione, con poche operazioni, potrà trasformare il California Ocean in un accogliente alloggio con superfici letto per un totale di 4 persone. Tramite il quadro comandi centrale, premendo un pulsante, è possibile azionare il meccanismo elettroidraulico che apre il tetto a soffietto, all'interno del quale si ricava un comodissimo letto per due persone. Esternamente il veicolo ha un serbatoio per l'acqua da 27 litri. La presa esterna da 230 volt permette invece di collegare il California alla rete elettrica del campeggio per ricaricare completamente la batteria. I mobiletti da campeggio compresi nella dotazione possono essere custoditi in tutta sicurezza. Se il tavolino pieghevole è collocato nella porta scorrevole, entrambe le sedie sono riposte in una borsa integrata nel portellone posteriore. La tenda avvolgibile e opzionale è facile da aprire e chiudere, fa ombra e protegge dal caldo, non solo in estate. Nell'abitacolo il tavolino spostabile, collegato al cucinino e i sedili anteriori ergonomici girevoli creano un ambiente accogliente, nel quale trascorrere del tempo in compagnia e gustarsi il fresco. Il California Ocean è dotato di un cucinino completamente arredato completo di piano di cottura e lavello, box frigorifero e una moltitudine di ripostigli. Così preparare i pasti risulta facile come un gioco da ragazzi e si ha anche più tempo per godersi le vacanze. Quando è ora di andare a letto, il piano superiore sotto il tetto a soffietto e anche quello inferiore si trasformano in 4 e 4 8 in un comodo letto per due persone. A tal fine basta girare la panca e appoggiarvi il materassino comfort. Il letto è pronto. Nel piano superiore la rete ad oghe sotto il materasso assicura un sonno profondo. Anche le basse temperature non rappresentano un problema per il California grazie al riscaldamento a vettura ferma. Dal momento che sia la cabina che le file posteriori possono essere oscurate con le tendine avvolgibili, il mattino non si deve temere di essere svegliati dai primi raggi di sole. Il California è il veicolo perfetto per i viaggi e le persone che danno molta importanza alla mobilità. Il suo geniale allestimento sapientemente organizzato su spazi molto ristretti, abbinato alla semplicità d'uso di tutti i suoi elementi e all'elevato comfort e alla massima sicurezza che essi offrono fanno del California il camper perfetto. Grazie al California prosegue la storia di successo iniziata molto tempo fa con il leggendario Bulli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.